da superare in quel momento della partita con gli avversari se facciamo sette passaggi e due tagli abbiamo due vantaggi che loro non ci corrono dietro e che quindi abbiamo tiri aperti e che loro non hanno la forza anche se sbagliamo di correre in contropiede se facciamo i tirini dell'allstar game del cazzo dopo due passaggi questi qua al contrario nostro fanno la canestra quindi bisogna costruire abbiamo costruito cinque tiri siamo andati al ferro abbiamo tirato dopo due passaggi abbiamo preso solo il contropiede